Il terremoto, i crolli forse causati da errori umani, le inchieste giudiziarie. Facciamo il punto ad un anno dal sisma del 6 aprile 2009. I filoni di inchiesta della Procura della Repubblica dell'Aquila sono per ora 6, 30 gli imputati. Il procuratore Alfredo Rossini e il sostituto Fabio Picuti hanno messo la lente di ingrandimento su oltre 200 edifici pubblici e privati, dando la priorità in quelli in cui ci sono state vittime. 11 sono gli imputati per il crollo della Casa dello Studente in via 20 Settembre. L'udienza preliminare è stata fissata il 28 maggio. Altri due sono indagati per il crollo del convitto nazionale dove morirono tre studenti. Sette le persone che dovranno rispondere dei crolli di una vasta ala della Facoltà di Ingegneria dell'Aquila. Per il crollo dello stabile di via Gabriele D'Annunzio sono stati inviati avvisi di garanzia a tre persone, mentre per il filone di inchiesta del Civico 79 ci sono altri sette avvisi di garanzia. C'è poi il crollo di una palazzina in via Gabriele D'Annunzio, 13 morti, e in via 20 Settembre al Civico 79 dove persero la vita altre nove persone. I reati vanno a vario titolo, dal disastro colposo all'omicidio colposo alle lesioni colpose. Attesi infine provvedimenti da parte della magistratura per quanto riguarda il crollo di alcuni padiglioni dell'ospedale San Salvatore. Veniamo al filone di inchiesta riguardanti il mancato allarme della Commissione Grandi Rischi. Gli investigatori stanno ascoltando i rappresentanti della Regione, del Comune e della Protezione Civile. La Procura ha recentemente acquisito un materiale probatorio come interviste dopo la riunione del 31 marzo, al termine della quale alcuni componenti della Commissione Grandi Rischi si lasciarono andare ad affermazioni troppo rassicuranti alla luce di quello che accadde a distanza di una settimana. Infine la Procura dell'Aquila ha avviato recentemente una serie di accertamenti sul filone di inchiesta a Toscano, sui grandi eventi che hanno portato ad arresti e all'invio di un avviso di garanzia per corruzione al capo Dipartimento della Protezione Civile Guido Bertolaso. La magistratura aquilana ha acquisito delle intercettazioni telefoniche per verificare la regolarità sugli appalti di alcuni imprenditori nella ricostruzione post-sisma dell'Aquila.